C'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Buonasera, bentornati a Risolto Giallo, nuovamente trasformato per voi, nuovamente rivoluzionato. Ma io rimango e resto la vostra Alessia Sorgato. E io rimango sempre il vostro Niccolò Mazzavillani. Sono stati tanti cambiamenti. Sì, ma Mazzavillani rimane un topos di questa trasmissione. Come l'ha assorgato, anzi l'assorghi. L'assorghi anche. Oggi vi diamo questo primo appuntamento nel nuovo studio insieme a un ospite prestigioso che io ho conosciuto a settembre, giusto, e che da allora bracco per avere qua. E oggi, finalmente, rendo realtà il sogno e vi presento Vittorio Nessi. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Alessia. Spero che non ci sia una pistola sotto la tavola per minacciare il nostro ospite a restare qua per tutta la durata della puntata, perché insomma da settembre è tampinato. Tampinato? Ma piacevolmente tampinato, perché in realtà io quando ho conosciuto Vittorio, diciamo anche dove era alla Passione per il delitto, un bellissimo festival di... Detto così, la Passione per il delitto. Bellissimo. Eravamo entrambi ospiti con i nostri rispettivi romanzi, lui parlava del suo e poi disse qualche cosa del suo passato e io rimasi affascinata. Adesso ci dirà lui stesso che cosa faceva in un'altra vita. Allora immediatamente, è vero Vittorio, mi precipitai a presentarmi e immediatamente, subito, probabilmente ancora prima di dirgli come mi chiamassi, lo invitai qua. Ed eccoci. Perché ero così affascinata, Vittorio? Tu che cosa facevi prima e durante la carriera di scrittore? Io sono stato magistrato, oggi sono in pensione, ho lavorato più anni come giudice di tribunale e poi sono passato alla Procura della Repubblica. Ho lavorato a Como e poi ho finito la mia carriera a Torino, alla Procura della Repubblica, facendo due passaggi in Sicilia, Caltanissette e Gela. Che è un po' un percorso inverso rispetto a quello che accade normalmente, ma ci arriviamo pian pianino. E vedo che questa sera ci sono due bimbi qua, che ha portato anche il nostro ospite, non solo l'assorgato, che sono Delitto al mercato dei fiori e Fermate Kowalski, che sono anche delle copertine. In favore di telecamera, guardate che belle copertine. Sono delle copertine belle, colorate. E di che cosa parlano? Di delitto? C'è qualche cadavere, sicuro. Certo. Dunque, il tema di fondo è quello che si riferisce al protagonista, che è un pubblico ministero, che si chiama Bruno Ferretti, quindi è un po' il mio alter ego. Sono due romanzi, uno il sequel dell'altro. Il tema è un tema che ha contenuti, diciamo, noir e legal. Il noir, rispetto al giallo, è un racconto che parla di delitti, ma è interessato, diciamo, all'animo umano. Un po', diciamo, il target è quello di Semeno. Centrato magari un po' più su... Su il protagonista. Esattamente. Il giallo, invece, è quello in cui c'è il delitto in prima, il cadavere in prima pagina, e invece si scopre il responsabile nell'ultima pagina. Ecco, diciamo che io, avendo svolto un mestiere a contatto col dolore e la sofferenza, ecco, a un certo momento della mia vita, ho sentito bisogno di restituire tutta questa sottoforma di romanzo, di parole e di emozioni. E sono usciti questi miei libri, questo è l'ultimo, il sesto, Fermate e Kowalski, che parlano proprio di questo. I temi di fondo sono sempre amore e morte. Vittorio, però, Ferretti c'è in questi due? Esattamente. Non c'era prima. Sì, è sempre stato il protagonista di tutti i film. Ah, c'è anche nei precedenti. Sì, sì. Ah, quindi l'evoluzione del personaggio è arrivata alla sesta puntata. Sì, sì. E ha toccato un po' tutti i temi, il tema del femminicidio, il tema della legge giusta e la legge ingiusta, la realtà che appare come in realtà non è, l'incontro tra culture e lo scontro di popoli, insomma, i tanti temi dell'animo umano che poi sono diventati processi e poi sono diventati romanzi. Ci sono dei temi delittuosi portanti negli altri quattro, perché questi due li abbiamo letti, delitto al mercato dei fiori. Abbiamo detto che sono ambientati a Como? Non l'abbiamo ancora detto. Sono ambientati a Como, entrambe. Questo è il femminicidio, come vi anticipava Vittorio. Quello lì invece è Mani pulite, quindi il tema della corruzione, della concussione, non hai toccato la collusione, ma praticamente ce l'abbiamo vista noi. Gli altri quattro, dicevi, avevi altri temi criminosi? Sì, sono i temi che mi hanno affascinato maggiormente. Uno, il dramma delle donne, quindi femminicidio, infatti il titolo è stato delitti d'amore. Ah, quindi femminicidio due volte, perché anche in questo... questa è la vittima, la vittima è la donna, è una donna, sì. E poi, beh, il tema di Antigone, la legge giusta e la legge ingiusta portata su temi moderni, e poi il dramma dell'immigrazione, ricordate il fatto di... ho parlato sostanzialmente di un tema uguale a quello che si è verificato in Emilia l'anno scorso, mi sembra, quella ragazza, esattamente, un caso di cui mi ero occupato è che aveva lo stesso tipo di evoluzione. Cioè queste culture che non si integrano con i nostri valori e i nostri problemi. Ha già anticipato una tua domanda, eh? No, io volevo farglielo un attimo, un'altra. Che tipo è? Perché Noir noi lo abbiamo affrontato spesso nelle nostre puntate e tendenzialmente i protagonisti sono sempre quelli che abbiamo affrontato noi nelle nostre puntate sempre un po' travagliati, hanno molti scheletri nell'armadio, un passato turbolento, segnato magari anche dall'abuso che poteva essere o di droghe o di alcol. Com'è invece questo Bruno Ferretti? Ecco, in tutti i romanzi c'è sempre la vicenda personale di Bruno Ferretti, la sua vicenda esistenziale, che si affianca a un'indagine. E quindi, per esempio, in Delitto al mercato di fiori si apre nel momento in cui Ferretti, giunto a un'età un po' critica della sua vita, decide di recarsi... Di che età stiamo parlando? L'età di mezzo, diciamo. L'età di mezzo. La piena maturità. Non lo dice? Non lo dice? No, ma guarda che anch'io ho cercato di capire quanti anni abbia, ma non lo dice. È l'età in cui... Diciamo che è la mia età. È l'età in cui viene un po' alle persone il male di vivere. E si apre sulla sedia di uno psicanalista. Penso che sia il primo personaggio di un romanzo che un pubblico ministero si sottopone a una psicanalisi. E quindi ci sarà tutto il percorso individuale di Ferretti che si confronta con i temi. Il tema di questa violenza di cui deve occuparsi, cioè questo sequestro di una donna, un rapporto di adulterio, l'amante, la ricerca del cadavere, il tema processuale, la verità e la giustizia. Perché il tema che sta dietro al delitto del mercato di fiori è un tema processuale interessante, se cioè l'obiettivo del processo è la verità a qualunque costo e con qualunque mezzo oppure la giustizia. E cioè che la fine del processo deve venire rispettando i termini che sono i termini della nostra civiltà giuridica. I nostri telespettatori sanno, perché non facciamo mistero, di quanta fascinazione eserciti su di me l'autore che poi inserisce nei suoi romanzi termini, scadenze corretti dal punto di vista procedurale. Perché anche questo ormai è il segreto di Pulcinella. Io nella vita sono avvocato penalista e salto sulle sedie. Ogni qualvolta mi si presentano frasi del tipo ce l'avete il mandato. Che il mandato poi ci avevano spiegato era tutt'altra cosa. Tutt'altra questione. Quindi vi do questa boccata di ossigeno. Adesso capite perché io ci tenessi tanto ad invitarlo. I libri di Vittorio ovviamente sono perfetti. Io con il bilancino dell'orefice o dello spacciatore a scelta tua sono andata a cercare scrupolosamente se ci fosse qualche piccola smagliatura. no. Potete studiare la procedura penale qui e avrete un ottimo 30. Bene. Ma la domanda che di solito Mazzavillani fa è che stavolta gli rubo. È nato prima lo scrittore generico cioè hai cominciato con racconti hai cominciato con poesie che trattassero tutt'altro o comunque il tuo essere homus iuridicus ha avuto il giusto slancio il giusto elan anche nei confronti della macchina da scrivere? Devo dire che io non avrei mai pensato di mettermi a scrivere nella mia vita ho poi ragionato sulle ragioni e sui motivi e il fatto è che io come pubblico ministero mi sono occupato di casi importanti dal punto di vista dei contenuti quindi sono dei delitti di sangue di corte d'assise io ho fatto molti di questi processi e che ho sempre gestito dal punto di vista giuridico nel modo spero migliore per tutti nell'interesse della funzione che io svolgevo ecco a un certo momento è come se tutti questi contenuti tutte queste 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 storie hanno lavorato dentro di me e hanno come a un certo momento preteso di uscire e quindi io non dico ho scritto sono stato scritto ma a quel punto quello che usciva dal mio vissuto evidentemente non era soltanto la cronaca perché questi non sono libri di cronaca sono romanzi e cioè si è inserito il tempo passato le mie trasformazioni le mie modificazioni le mie nuove emozioni e questo è diventato quindi la materia del romanzo nel quale scrivi della verità ma scrivi anche delle fantasie degli incubi delle paure quindi è proprio come far passare ai raggi X le sensazioni che tu hai provato che ai tempi non hai avvertito perché svolgevi una funzione e che a un certo momento invece sono uscito e sono diventate di dominio pubblico eri già in pensione quando hai cominciato a scrivere? gli ultimi anni io il primo romanzo l'ho scritto nel 2013 sono andato in pensione nel 2016 quindi proprio sulla fine della mia attività fermate Kowalski Tangentopoli 30 anni dopo forse forse il nostro ospite l'ho già detto ma era per averlo anche più chiaro Tangentopoli comunque è un tema giuridico molto importante e che ha avuto un peso veramente forte come mai la scelta proprio di volerlo riprendere Tangentopoli 30 anni dopo dunque devo dire che quando io sono andato in procura a Como perché i due i due romanzi sono ambientati a Como e fanno riferimento anche a delle vicende processuali reali traggono lo spunto da me io mi occupai appunto dei processi di Tangentopoli Kowalski diciamo una piccola Tangentopoli però con caratteristiche simili e comuni alla Tangentopoli nazionale di questa parte io ho colto sia i contenuti giudiziari e sia invece le implicazioni personali e cioè ho descritto quella che è un po' una una nemesi storica dell'uomo il giudice che diventa potente che diventa un idolo rispetto alle indagini che svolge e quindi si trovano in quelle condizioni veramente di grande di grande ammirazione da parte della collettività cosa che è successo in realtà e poi come tutte le cose umane in genere no accade l'imprevisto accade la nemesi storica e cioè si verifica esattamente la situazione uguale ed opposta come se il protagonista di queste vicende e lo vediamo perché è successo molte volte così debba sotto certi aspetti ecco pagare pagare l'esposizione che ha avuto infatti questa è la storia di un pubblico ministero che combatti i poteri forti e da un certo momento si trova nelle condizioni di difendersi difendere il proprio onore difendere la propria onorabilità perché questi poteri forti a un certo momento non tollerano che si supirano certi limiti è la storia quindi di una di una parabola è una storia anche di una di una delusione come delusione c'è anche nel primo nel primo romanzo perché al termine del primo romanzo Alessia lo sa perché quindi capisce bene cosa sto parlando perché parliamo proprio di meccanismi processuali il protagonista scopre che l'indagine che appariva una indagine perfetta in realtà è arrivata a quel punto di verità senza rispettare le regole del processo e allora il dubbio se la verità ad ogni costo è un bene o viceversa è un elemento negativo per la società diciamo che noi giuristi ci troviamo ogni giorno a ogni giorno a bilanciare queste due pretese queste due che non sono soltanto dei giuristi sono dei diritti umani ossia vedere la giustizia trionfare vedere un colpevole venire identificato venire processato venire punito il tema però che riprendi anche in Kowalski perché poi l'autore di quella smagliatura alla procedura che concludeva il delitto al mercato dei fiori è ancora lì e continua a delinquere per altro quindi è ancora tra di noi detto questo però forse proprio perché io ho iniziato la pratica professionale nel 1993 quindi in piena manipulite milanese lavoravo per un avvocato che era molto impegnato in quei procedimenti e poi mi sono vissuta anche la fase dei processi di fiamme gialle quindi praticamente hai avuto un battesimo di fuoco si può dire assolutamente 24 ragazze eravamo quegli anni lì non erano anni banali diciamo che non erano banali diciamo che cominciare lì era veramente come andare al Colosseo invece che dal veterinario a comprare un gattino andare al Colosseo a trovare leone però c'è un tema adesso mi ero anche segnata le frasi ma non avendo gli occhiali non le ritroverò mai di una certa amarezza nella tua scrittura di una certa presa di coscienza che forse tutto ciò che si è fatto per recuperare legalità per recuperare purezza è stato inutile perché in fondo nulla è cambiato è un espediente narrativo per scrivere delle belle pagine o è il tuo pensiero reale il mio pensiero in genere sulla giustizia oltre che per quel periodo storico in cui c'è stata un'accelerazione del sistema cioè ci siamo tutti accorti che improvvisamente la gente scendeva in piazza allora quando la gente scende in piazza sostenendo o sannando alcune posizioni quelli sono momenti in cui il giurista deve capire che è giunto il momento di riflettere perché i processi si fanno non nelle emozioni sotto l'influenza di questi momenti ma si fanno frigido patacocque con animo freddo magari questo è il concetto quello che io dalla mia esperienza posso dire e che entra anche in questo romanzo di Fermate Kovalski è che la via all'etica la via alla legalità passa certamente attraverso il momento giudiziario perché il momento giudiziario è quello che è stato creato dagli uomini per rimarginare la ferita del delitto il delitto comporta una ferita nel corpo sociale e ha bisogno di essere rimarginato con accertamento della verità e poi ma la via alla buona ai buoni principi della comunità non è la via giudiziaria cioè la via giudiziaria ha delle caratteristiche che io paragono al chirurgo che interviene sulla gamba malata amputa la gamba malata ma l'organismo non sarà più sano ecco e la via alla buona amministrazione passa invece attraverso a quella a quella cosa diffusa nella quale i cittadini concorrono le istituzioni concorrono sotto la parte amministrativa c'è questa sensibilità sociale c'è la società civile ecco lì una società progredisce il gendarme il giudice interviene quando ormai il delitto è commesso quindi arriva sempre in ritardo noi abbiamo bisogno invece di una di una civiltà che preceda eccole questo genere di problematiche quanto tempo abbiamo ancora? dieci minuti ok allora puoi andare a fare la tua domanda io mi tengo la ultima che è una mia classica che facciamo sempre a risolto giallo questa invece è una domanda particolare non l'ho mai fatta perché non mi era mai capitato o meglio mi è successo di trovare una scena in un altro romanzo che descriveva una situazione in cui io c'ero quindi avevamo vissuto insieme con l'autore lo stesso episodio nel caso di Fermate Kowalski io ho incontrato una persona che conoscevo e che adesso chiederemo a Vittorio come mai lo abbia voluto celebrare in maniera così evidente ti leggo il passaggio per me è stato anche commovente poi ti racconto come l'ho conosciuto all'avvocato Giulio Bellasi difensore gentiluomo velista appassionato di armi bastò un attimo per inquadrare il fucile sequestrato a Schneider dopo l'arresto questo signore è esistito e si chiamava così ed era un velista infatti io l'ho incontrato in Turchia in Barcavela perché ero amica di suo figlio dei personaggi e degli interpreti di questo mondo dell'avvocatura comasca dentro a Kowalski ci sono parecchi avvocati in questo romanzo alcuni nauseabondi altri positivi però penso che gli altri siano tutti nomi d'arte sono tutti veri? no allora diciamo così i protagonisti o comunque coloro che compaiono e sono cosiddetti buoni hanno tutti i loro nomi di battesi sono i collaboratori del PM Ferretti che sono gli agenti della finanza che hanno fatto che hanno fatto questa indagine lo sanno di essere qui? ho chiesto ho chiesto l'autorizzazione magistrato quindi personaggi positivi tutti nominate con nome e cognome tra questi l'avvocato Giulio Bellasi che si inserisce in una specie di cammeo interno a questa storia di Kowalski che è la storia dell'attentato al Papa perché nessuno sa ma il buon protagonista Ferretti è convinto di avere sventato l'attentato al Papa quando Karol Wojtyla venne a Como il primo gennaio del primo maggio del 1996 questo vuol dire che il dottor Ferretti ha sventato leggendo capirete perché il dottor Ferretti è convinto di avere anche perché Ferretti era di turno il giorno prima che il Papa venisse a Como e quindi si è imbattuto in questo personaggio dei servizi segreti che compare e che poi giustifica la presenza dell'avvocato Bellasi i cattivi tra virgolette invece hanno un nome di fantasia sono riconoscibili da molti ma hanno nomi di fantasia ho i brividi cioè allora questo tecnicamente lo sapete si chiama non fiction narrative è molto rara estremamente difficile probabilmente ci cimentiamo soltanto noi giuristi in questo tipo di narrativa io non vi dico comprate questo libro leggetevelo ma se dovesse capitarvi che andate in casa di amici tiratelo giù no davvero quelle pagine relative allo sventato attentato sono veramente emozionanti sono veramente molto molto belle non posso nasconderti che io ho preferito il delitto al mercato dei fiori e ti scrissi immediatamente immediatamente di notte probabilmente l'ho tirato giù dal letto col mio messaggino ma questo ha quel vabbè vi ho detto cosa volevi chiedergli noi una domanda che noi facciamo sempre a risolto giallo visto che siamo appunto in Milano news è il rapporto con Milano abbiamo detto che in questi due romanzi c'è Como come luogo principale ti volevo chiedere che ruolo che ruolo ha invece Milano in questi romanzi e qual è il tuo rapporto con la città di Milano dunque la città di Milano per un comasco è qualcosa di estraneo in questi termini a Milano si viene per andare alla scala a Milano si viene a fare l'università io ho fatto l'università a Milano si viene a cena sui navigli questo è il rapporto perché i comaschi hanno bisogno di acqua c'è da dire che io sono comasco puro sangue e che quindi io ho nel cuore la mia città e la mia città entra con prepotenza in tutti e due i romanzi perché sono ambientati a Como con una rivisitazione che mi ha consentito attraverso il racconto di vedere cose che io neanche conoscevo perché un conto è avere sotto gli occhi una una realtà che vediamo monumenti strade selciate è un conto di cominciare a descrivere allora se la descrivi incominci a vedere le luci incominci a vedere il sole incominci a vedere le ombre incominci a sentire i suoni incominci a sentire l'anima della città camminando nella città di Como la notte nella nebbia Ferretti il protagonista sente i suoi passi sul selciato e capisce che quella è la voce della città la voce dei suoi antenati che sono passati di lì la voce che avranno i passi dei suoi discendenti quella è l'anima città e dovendo descriverla descrivendola ecco tutti questi elementi escono e poi uno cerca di tradurli è un'ottima non parliamo poi del lago perché il lago ha tante sfaccettature in realtà Ferretti ama anche andare al mare io qui ho riconosciuto una trattoria dove sono stata il 25 di aprile guarda è passato veramente poco quella sopra a Sori quella sopra a Sori ho detto Enrico ma tu mi hai portato in un posto famoso guarda guarda l'autore viene mercoledì e lui prontamente avrà detto lo sapevo già no guarda incredibile non fa il nome lo facciamo? se lo merita dai è una meraviglia le cose belle vanno dette con il loro nome è un posto stupendo allora guardate Sopra Sori si chiama Al io ricordo la località è Sant'Alessandro Santa Pollinare Santa Pollinare Santa Pollinare Sopra Sori aspetta Al me lo sono fatto ridire me lo sono fatto ridire scusate andatevelo a cercare la prima parola che viene in mente è Al Paradiso perché quello è un pezzo di paradiso un posto pazzesco con un conto assolutamente inadeguato per difetto a me dispiace veramente doverci lasciare così con questo detto non detto cioè ha fatto tutta questa ha fatto questo cappello tutto questo cappello e poi all'ultimo emoji con facebook con facebook veramente lasciamoci così ma lasciamoci con una speranza Vittorio sta scrivendo sì sto scrivendo Ferretti continua a lavorare esce da ogni libro esce disilluso esce disilluso sia sotto l'aspetto sentimentale attraverso queste storie passionali che poi come tutte le storie passionali non possono che deludere perché questo è il destino delle storie passionali esce da Fermate Kowalski salvando il proprio onore ma capisce che ormai a Como nella sua città non ha più niente da dire e allora prende l'unico posto l'ultimo posto che nessuno può negargli e fa una domanda di trasferimento in Sicilia e si reca in una procura della Sicilia dove esiste soltanto il procuratore non ci sono sostituti e si trasferisce in Sicilia titolo titolo allo Stato è maschere da una frase di Pierandello che dice incontrerete nella vita tante maschere pochi volti e questo fa parte dell'ambiguità in genere del mondo ma anche del mondo giudiziario siciliano e quindi noi diamo appuntamento a Ferretti a Nessi a tutte le loro storie meravigliose appena uscirà il nuovo buss alla nostra porta e non sappiamo bene come sarà lo studio quindi probabilmente avremo il tavolo in verticale sarà probabilmente sarà girato dall'altra parte ma noi saremo ancora qui e quindi sempre più disillusi anche noi perché purtroppo ci dovremo rivedere ancora ma no che saremo felicissimi dalla vostra Alessia Sorgato è tutto buona serata grazie buona serata a tutti quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo grazie